oggi ti ha messo un po il position anche a te con sta fascia siamo al completo c'è anche il narratore che non riveleremo mai l'identità io c'ho una domanda no visto che oggi ci ho avuto da fare ma come si è comportato ma malissimo malissimoissimoissimo tre secondi fa incredibile oggi è un picchiatore seriale incredibile ma io vorrei scusi narratore ma come si è comportato un po mi dica quindi io che dovrei fare da nipote io secondo me da nipote lo escluderei proprio come nonno lo escluderei come nonno ma come nonno perché la voce del narratore ha detto che come nonno per carità è vero no il narratore ha detto che come nonno te deve escludere tu che gli vuoi di dar il narratore che non capisci niente io te devo escludere tu che gli vuoi di dar il narratore che non capisci niente che la fa la già pan culo oh come come questa dimostrazione del fatto che il comportamento del nonno tuo è questo a posto non c'è rimedio non c'è rimedio filipetto prima tre secondi prima che arrivate ha tirato i trick e track la messe sotto la panchina e dopo rideva rideva e dopo io sarebbe incavolato perché ho detto che lui proprio fa proprio schifo malissimo mai sti be al teatro da messa anche la musica senti fai 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 e cilindro a dai hai detto